www.feyyaz.com Ma era incinta? Boh, non l'ho visto Mi pareva essere pancione Cosa posso fare? Non preoccuparti Ho qualcuno che mi aiuterà Chi è? Il suo nome è Vincent, sembra legittimo Sei sicuro? Cioè, tutti pensavamo che potessi chiedermi Harvey Cosa? Cosa? Perché? Non lo so ancora Ma lo vedo Oh, stronzo, dimmi perché vuoi cedere Harvey? Che cano sono Che chi è? Cosa è Alex? Ci sono sei mesi L'abbiamo a perdere il suo padre C***o L'abbiamo a perdere, Linda L'abbiamo a trovare? No, no, ascolti È bene, ancora pensa che sei in Italia aiutato il tuo padre Bene, bene Qualcun problema di Harvey? Non preoccuparti Ah, ok, no, Harvey non è il gelato suzione perché... ... vorrebbe essere fuori, quindi... ... che c***o Baby, baby, ascolti ... ci siamo passati ... ci siamo passati ... ci siamo passati Ehi, perché stai aspettando? Nessuno è venuto per te ... magari dovrebbe solo perdere il bus ... vorrei aspettare un po' di più ... non più visitanti che arrivano oggi ... vuoi fare un telefono? ... o vuoi fare un telefono? ... o vuoi fare un telefono? ... vorrei fare un telefono, signor ... da un telefono ... da un telefono ... che stai in cintà ... che stai in cintà ... per ora ... perché non sei qui ... perché sono a casa, aspettando il nostro bambino Please, I've talked about this No, you've talked about this I didn't have a say at all You're in prison I'm gonna be out soon Listen to yourself Vincent This isn't who you are Is this how you want your future child to remember you? No, but I need to take care of the Hardy situation Carol Carol You know that he killed Gary He was my family My own brother I know you miss him, but you can't bring him back You're just gonna get yourself killed Please, you know I have to do this I can't believe you Vincent Hello? 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 Okay, I've understood Now I've got his brother This is Tone coming I did It's our window We leave tonight I'm ready Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso ci sono quick time event per passartela. No, fino a mai. Oh, piano, occhi. Non c'è nessuno che li sente. Sì, effettivamente. Non c'è nessuno che li senti. Non c'è nessuno che la bata è sbita. Oh, che è nessuno che la fata è sbita. Mi credo. sicuramente spero ma dove cazzo sono poi? ho perso non so se l'orientamento evidentemente siamo dentro la prigione ma in qualche posto chiuso papà, muovi tu cazzo vuoi passare? vuoi passare? ma so probabilmente dobbiamo andare a dd a sinistra no si si a sinistra tiriamo qua c'è una porta tiriamo qua c'è una porta aspetta aspetta, ok quando c'è il buono ritirizzato aspetta 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 vediamo un attimo aspetta 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 quando c'è il buono o quando parte schiaccia righi aspetta 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 siamo fuori sopra il tetto ok si aspetta 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 ok ok aspetta minchia eh la madonna ah mettica po' aspetta 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 non ho capito non ho letto cosa che ha detto ha letto 3 sull'ufficio però non ho sentito di chi perchè ah ma qua siamo siamo dove eravamo all'inizio è passata verso l'ufficio ma non ho letto sotto ma non si può ah qua dove dove abbiamo preso la cosa l'altra volta ah no la chiave no lo scalpello l'attivazione sì l'attivazione l'attivazione ma non scuola prendere da un barco mondo il mio po' di la fornata non faccio la popolo a me è liberato il pappagallo la ricetta no un trofeo se in realtà a perchè hai hai fatto liberare la lucennina a te no perchè perchè per la versione di prova e' già buona che te l'ha dato che ho fatto io l'azione comunque si da quanto avevo letto tempo fa alcuni trofei li sblocca solo se fai l'azione con quel personaggio ma però non ho letto perchè si vengono ora posso suonare un film niente ossa test carlo per caso su un posto Qua si scende ancora? Sì, però c'è una porta Vedo vedere se si può aprire, no Dobbiamo andare in corridoi No, lei è stato abbastato Ah, qua si va all'infiammeria, Ricky Ok Altra volta Cattroia, aspetta Non riesco a capire se sono girati o no Non riesce a capirlo Vedete provare il giro di qua? Te lo posso dire a me Sì, sono girati verso... Ecco esatto Però non so cosa dobbiamo prendere in casa Magari dobbiamo fare un doppio capo No, secondo me dobbiamo passare dalla finestra lì dove stanno guardando Ah, no, qua dove sono io Ah, ok Ma il culo che arrivo That's the tower, watch out for the spotlight Guarda, qua c'è anche il faro che spara la luce Questa è coperta Corri, 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 Ricky, puoi anche... Tu devi andare fuori dalla finestra lì dove sei in giro Ah, ah, ah Perché non si muove, il mio? Oh Grazie, mi scava Oh, il mio non si muoveva Ah, ah, ah Schiacciare il cerchio, per uscire Ok, vai, vai Che vale quando è di qua? Adesso no, perché va a tornare indietro, non sa No, tu ci lo fa Aspetta Ah, non ci lo fa Ah, non ci lo fa Ok Adesso Adesso Oh, sali o no? Ah Un po' a posto Spero di rinnovare se c'è qualcosa da fare Spero di rinnovare se c'è qualcosa da fare Cosa è che è il cazzo? Non ho visto Ah, qua Dobbiamo trovare qualcosa per poter scivolare sul filo Ah, qua, qua, per gli abiti Ah, posso Ok Ce l'ho Mamma mia Affidarsi alla Pb Ma te non vai, te? Eh, devo aspettare No, no Porca broia Che stia Ora stavo dicendo Muoviti, muoviti Stavo dicendo Penso siamo e si rompe Sì Dai, dai, dai Dai, dai Bene Non li hanno schiamati Non li hanno schiamati per tutto il tempo Non li hanno schiamati per tutto il tempo Ah, no Ah, sì, sì, sì Ah, sì, sì, sì Ah, sì, 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 sì Sì, ma per uscire bastava quel garage, fammi capire Che cazzo Che cazzo 19 Reconna 19 Oh my god, I can't fucking believe you talked me into it. Me neither Here Come on Chopper yeah, it seems like we've really pissed him off Oh god, we have to be careful. I'm not going back in Oh, I know what I mean Okay, okay Come on Come on Oh shit cops everywhere. We got to watch out Yeah, I'm a bad I'm a e marito sono soltanto insieme a posta scusso di nuovo occo solo 1 questo puoi fare come il horizon quando arriva lì il mostro che lo fischi lo posso picchiarlo? pensi di sì vai a destra da pure che no cazzo di qua non si può mi ha proprio passare dentro qua entra entra in cospuglia ok ok ho il sacco tutti questo è dove te la fare ah sì aspettami questo questo il è un attimo intanto penso di mangiare sempre girati io prendo quello a destra mi ricordo mi ricordo quella ho fatto in batteri il traccia ma ho iniziato a fare in cooperativa ah e c'era il cecchino mamma mia non l'ho giocato ma l'ho letto ma l'ho letto non c'è niente non sbaglio a me continui a andare poi immaginati su ps3 e non c'era neanche impatti eh si Sì ma mi sta precisando che era nel South Dakota Va bene che ci sta che è isolata Sembra che stiamo andando a cercare il Bigfoot E' un'ora fa se posso venire Ah Righieri che vai dietro Voi dietro Se posso possiamo cercarli insieme Quando te lo dico E ti hai riparato Un quadrato Vai avanti un po' avanti Ok pronto Uno Due Tre Bella Adesso dovrebbero prendergli i vestiti Eh appunto Comunque il mio personaggio cammina in modo strano Guarda Sì ma ho questo Somma vuoi che era Perché magari guarderai video Eh salutalo Sì vabbè ma ma scorda Ma tutta sta cosa come hanno fatto organizzare La polizia Occhè puttana Ma non so Ma non so E' molto più alto E' molto rischio Ah possiamo scegliere Ah possiamo scegliere Ah per me è lo stesso Vabbè tanto mi sa che forse qua c'erano delle robe da prendere Quindi sto cosa qua si può rifare forse Eh dai facciamo prima il ponte Poi Vai dal ponte Poi la prossima volta facciamo l'altro Ah forse si poteva fare due due Cioè uno e uno Non lo so Può essere Poi La prossima volta vediamo Mamma mia La broia Non guarda Non guarda Minchia Ci potrà saltare Non guarda Non guarda Non guarda Non guarda Guarda come si vede da me Sì è vero perché fa Calvertisi Un canale ricorso E' giù Comunque va bene tutto ma non è scappato bin Laden Omo La tua è quasi qua no 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 dove sei? capito adesso e ciao ah no ok forse di aprire la porta e devo saltare questa cosa la facevo da piccolo ah ok Ok pensi che potrebbero venire così e spaventare dall'altra parte? no, non credo, è una davvero grande drop e le correnti in l'acqua sono troppo forti ok, sono pronti, vero? mi credo, ho stato spaventato qui per anni questa parte qua dei tubi mi ricordava prendere la cassa nella raid di Destiny credo, credo! è che non credo ha, credo! l'acqua sono finita non credo, non credo che voi non la roba è stato tornato a barriare e l'acqua su va Sì, c'è qualcuno lì, bisogna essere attenzionati. Sì, c'è qualcuno lì, bisogna essere attenzionati. Come faccio? Ah, non ti ho fatto salire. Oh, no, 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 aspetta, aspetta. Parla, parla. Sì, c'è qualcuno lì. Sì, c'è qualcuno lì. Sì, c'è qualcuno lì. Che pazzagnoia. Sì, c'è qualcuno lì. Non è cagnonna. guarda che adesso scivola e faccio il salto con il martello va di saltare vai vai oh bastardo mi ricordo che ho dovuto smacillarsi il braccio mi ricordo quella volta che ero in giro in bicicletta e c'era un cane che mi si è messo a seguirmi e ho fatto quella salita a una velocità pazzesca